Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Solitamente parliamo ovviamente di filati, di accessori, ma a volte dimentichiamo quanto sia importante parlare anche di che cosa utilizziamo per realizzare queste meravigliose creazioni e anche quanto sia importante utilizzare dei prodotti di qualità. Bene, quest'oggi parleremo proprio di uno di questi. Parleremo infatti di uncinetti Soft Touch Clover. Eccoli qua, allora questi che vedete in realtà sono solo alcuni dei 21 uncinetti Soft Touch della Clover presenti sul nostro sito Tessiland. Le misure vanno dallo 0,5 che è questo uncinetto più piccolo fino al numero 6. Nel dettaglio abbiamo misure anche intermedie che sono appunto 0,5 ma anche 0,60, 0,75, 0,9, 1, 1,25, 1,5 ma anche 1,75, 2, 2,25, 2,5 che sarebbe questo, 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 che sarebbe questo, 5 ma abbiamo anche 5,5 e 6. Quindi dallo 0,5 al 6. Ce ne sono davvero tantissimi, quindi di diverse misure. Anche come potete vedere queste dai piccoli dimensioni che quindi vi aiuteranno sicuramente anche a realizzare modelli con dettagli più minuti, più piccoli, così come ci sono quelli con le misure un po' più grandi per lavori un po' più traforati o comunque con fuori di misure maggiori. Alcuni piccoli dettagli sono davvero molto molto comodi, hanno una presa fantastica, ergonomica in resina che permette di lavorare senza che le due mani si indolenziscano per davvero molto tempo. Come potete vedere però abbiamo due tipologie diverse di uncinetti, nel senso che le misure che vanno dallo 0,50 all'1,75 hanno la parte finale in acciaio, mentre le misure che vanno dal numero 2 al numero 6 hanno la parte finale in alluminio e pertanto privo di nickel. Altra particolarità, queste misure più piccoline che hanno il terminale in acciaio, hanno anche questo pratico tappino che serve proprio per proteggere la punta, essendo ovviamente un po' più delicata. Pratico tappo che potrete tranquillamente trovare all'interno della confezione. Ce ne sono tantissimi, lo abbiamo detto prima, per lavori più minuziosi ma anche per lavori da creare con filati che hanno uno spessore maggiore. Insomma davvero questi uncinetti comodissimi, pratici e con una cura nel dettaglio davvero incredibile non possono mancare all'interno del vostro cassettino riservato al handmade. E poi fanno parte comunque di un'azienda quale la Clover che è comunque garanzia di qualità e soprattutto di cura nel dettaglio e lo dimostrano appunto i tappini oppure la differenza anche tra i numeri più piccoli che richiedono quindi un sostegno maggiore ecco perché sono in acciaio, così come quelli più grandi che invece sono in alluminio e pertanto privi di nickel e quindi anche con l'attenzione in più per chi ha magari determinate allergie. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, tutte le nostre idee creative ma di seguirci anche su tutti gli altri social e quindi Facebook, la nostra pagina Meglio di Maya, ma anche Instagram, Pinterest e TikTok. Noi quindi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao! Ciao!